Il lavoro dei periti è stato ineccepibile, non c'era altra strada se non il sequestro. Il procuratore generale di Lecce Giuseppe Vignola durante la conferenza stampa sul sequestro preventivo di sei aree dello stabilimento Ilva e i domiciliari per otto dirigenti spiega la necessità delle ordinanze firmate ieri dal GIP del Tribunale di Taranto Patrizia Todisco nell'ambito dell'inchiesta contro il complesso siderurgico tarantino. Si doveva prendere questo provvedimento e lo si è preso come ho ripetuto e come continuerò a ripetere con estrema coscienza, con estrema attenzione, con estrema sofferenza. Smentendo le notizie sul presunto blocco della produzione la procura ha precisato che il sequestro è solo notificato. Di sigilli si parlerà solo dopo la decisione del Tribunale e del riesame sul ricorso presentato dall'azienda la cui udienza è fissata per il prossimo 3 agosto. E' lecito ipotizzare, anche sono in itinere, che ci saranno richieste di riesame che quantomeno per quanto riguarda il pronunciamento del Tribunale del riesame si avranno a brevissima scadenza e quindi vanno sicuramente tenute in considerazione. Tra i reati ipotizzati a carico dei dirigenti c'è il disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, sversamento di sostanze pericolose. Le perizie, una chimica e l'altra medica hanno rilevato il mancato controllo delle emissioni nocive, causa di decessi e gravi patologie nell'arco degli ultimi sette anni. Se per la magistratura non deve sussistere un bivio tra salute e lavoro, in queste ore politica, sindacati e associazioni di categoria temono per le ricadute della vicenda. A Genova, sede di uno degli stabilimenti del gruppo, si chiede con forza il mantenimento del ciclo produttivo tarantino per la sopravvivenza di tutte le sedi produttive. Anche il ministro dell'ambiente Corrado Clini, che ieri aveva annunciato la richiesta urgente di riesame del provvedimento, ha auspicato una continuità produttiva. Questa mattina al vaglio del Consiglio dei Ministri contenuti del protocollo d'intesa Salva-Ilva. Oltre 336 milioni di euro, sette dei quali da privati istanziati per lavorare nell'arco di cinque anni ad interventi di bonifica, incentivi alle imprese locali e riqualificazione industriale dell'intera area.